Porto Re e Torrese divise da un solo punto si affrontano alla decima giornata di campionato primo tempo non brillantissimo prima azione degna di nuota dodicesimo minuto cross dalla sinistra di De Vincentis ci prova al volo Selva Allegra conclusione che termina sopra la traversa rispondono gli ospiti dopo 60 secondi colpo di testa di festa facile l'intervento di Palena al ventottesimo minuto angolo battuto da Mastrilli di testa ci prova Di Loreto la sua conclusione termina alla destra di Palena la gara si sblocca al quarantesimo errore in uscita dello spoltore ne approfitta Gentile sassata e palla alle spalle di Palena 1 a 0 la replica dello spoltore al quarantasesimo di Renzo conclusione che però viene parata facilmente dal portiere ospite con le immagini montate da Mario Giacchetta passiamo alla ripresa ed è subito raddoppio per la torrese spizzicata di testa di Gandini che apre una prateria a festa solo davanti a Palena realizza il 2 a 0 all'undicesimo minuto mischia al limite dell'area di rigore si accendono gli animi il direttore di gara fa fatica a placare gli animi e alla fine due cartellini gialli e un'espulsione per Alessandro Morelli il vice di Del Gallo combinazione Petito Sparvoli tacco del numero 10 per il centravanti che rientrava oggi dopo l'infortunio la sua conclusione termina fuori al minuto 25 arriva il Tris buco clamoroso di Zazzas per il neo entrato Santi Rocco si apre una prateria e solo davanti a Palena realizza il 3 a 0 passano 180 secondi e si riapre nuovamente la gara questa volta l'errore difensivo è della torrese Sparvoli realizza l'1 a 3 e il suo decimo gol in campionato minuto 33 traversone di Selva Allegra per la testa di Belli che impegna il portiere ospite nuovamente Sparvoli innesca la miccia per Petito il controllo di palla la conclusione che però viene sventato dal portiere giallorosso al minuto 43 doccia fredda per lo spoltore Petito ferma Santi Rocco per il direttore di gara non ci sono dubbi carterlino rosso e spoltore in 10 non succede praticamente più nulla la gara si conclude con la vittoria della torrese per 3 a 1 mister è arrivata questa sconfitta al termine di una gara comunque intensa primo tempo equilibrato torrese forse ha pressato un po di più e vi ha portato forse a quell'errore che poi ha spianato la strada alla vittoria beh io credo che la partita è stata equilibrata sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo sbagliato un'uscita e sono stati bravi a capitalizzare l'unica occasione che hanno avuto nel primo tempo due ripartenze nel secondo tempo hanno condizionato ancora di più la partita io penso che abbiamo avuto poi una mezz'ora di reazione importante sul 3 a 1 abbiamo avuto anche delle situazioni che ci sono andate contro io non mi lamento mai dell'arbitraggio ma oggi è stata veramente una cosa che ci è andata contro noi facciamo il mia colpa sulla prima ora che potevamo fare meglio però non può passare liscia questa situazione perché secondo me il rigore è abbastanza molto evidente c'era un'espulsione per il numero 3 che ha avuto una reazione importante e non è stata data tantissime gestioni sbagliate da parte dell'arbitro su ammunizioni che non sono state date io credo che se la partita poi si può riprendere ci sono delle situazioni favorevoli ci deve stare un giusto arbitraggio per permetterci di farlo perché la partita era facilmente riapribile mister Remigio Cristofri tre punti pesanti qui a Spoltore conquistati al termine di una gara ben giocata dei suoi un primo tempo sostanzialmente equilibrato dove però voi siete stati più aggressivi e quella aggressività ha portato anche al gol del vantaggio l'errore quindi il gol del vantaggio e poi dall'istrata spianata sì l'avevamo preparata così di andarle a prendere molto alti perché sappiamo che lo Spoltore ha grandissima qualità ha un'idea di gioco molto simile alla nostra sempre quella di cercare di giocare palla a terra avevamo pensato di andarle a prendere alti di recuperare palla magari nella loro tre quarti ci siamo riusciti poi è stato bravo Gentile a trovare un gol importantissimo da lì la squadra ha preso ancora più consapevolezza siamo andati sul 2 a 0 il 3 a 0 poi ecco l'episodio del gol dell'errore insomma del mio difensore ha riaperto un po' la partita ho visto tanto nervosismo questo non mi è piaciuto però devo fare i complimenti alla squadra perché non era facile venire a Spoltore a fare una partita del genere per 70 minuti abbiamo fatto una grandissima partita con grande sacrificio e quindi faccio complimenti e insomma da stasera iniziamo a prepararci per mercoledì grazie a tutti